Questi si chiamano ceci, al singolare si chiama cece e adesso non cece Dopo la storia di prima molte persone mi hanno detto che io non ho fratelli, ma io non ho due di fratelli Lo saprò bene, io ho fratelli o meno E se volete farmi domande di questo genere e togliervi qualsiasi dubbio potete farle sotto il mio ultimo video su youtube In un commento Ciao, mi chiamo Luis Mi è stato commissionato di fare questo video nel quale parlerò di subculture Io ho sempre squazzato Tu? So we're signing a very important document